0-0 tra l'onore pare e il Breno, il risultato di una partita che ha regalato poche emozioni da parte di entrambe le formazioni. Il timore di perdere ha bloccato la fantasia delle due squadre. I mister Bertolazzi e Carobbio sono a fine gara tutto sommato soddisfatti della prestazione dei propri ragazzi. Hanno fatto una buona prestazione su un campo difficile, soprattutto perché è un campo piccolo, contro una squadra molto aggressiva, quindi non ci lasciavano spazio e tempo per giocare. Abbiamo comunque cercato lo stesso di giocare la palla e qualcosa abbiamo creato, non tanto. Se crei poco è chiaro che è difficile riuscire a trovare poi lo spiraglio per fare gol. Difatti così è stato, sì da una parte che dall'altra è definita 0-0. Però come prestazione devo dire che è stato sufficiente, è più che sufficiente dei miei ragazzi. È un punto che avevo la classifica e andiamo avanti. Adesso ci prepariamo alla partita domenica e abbiamo il derby col Seller. Di sicuro il minimo è quello di mantenere la categoria. Dopo, a fine dell'andata, vedremo a che punto siamo, se possiamo alzare l'obiettivo o continuare a tenere soltanto questo. Però l'obiettivo minimo è quello di mantenere la categoria. Sì, beh, è stata una partita equilibrata, una partita anche sotto l'aspetto agonistico elevata. Nell'arco della gara ci sono stati anche dei buoni spunti a livello tecnico. Diciamo che il pareggio sostanzialmente è giusto perché nessuna delle due avrebbe meritato di perdere. Hanno tutti e due cercato di vincere, non ce l'abbiamo fatta, però buona gara comunque. Perché di fronte abbiamo una squadra di buona caratura, per cui secondo me è stata una buona gara. Ecco, Mari senza gol, però buona gara. Grazie.